Reading Challenge 2018, non te temo! Ciao coltivatori di sogni e benvenuti o bentornati sul canale! Oggi finalmente sveliamo uno per uno tutti i punti della nuova Reading Challenge di PopSugar per il 2018. A darmene notizia con super puntualità è stata Valentina, a cui mando un bacione, grazie cara per avermi informata subitissimo, perché quando lei ha visto che sul sito di PopSugar era appunto stata pubblicata la Reading Challenge 2018, mi ha informata subitissimo. Io probabilmente avrei visto il sito tipo dopo l'8 dicembre. Quindi sul mio quadernino di YouTube ho segnato tutti i punti traducendoli in italiano. Anche la presentazione della challenge che hanno fatto è molto carina, perché spiegano che lo scopo è comunque quello di leggere di più, divertirsi e magari scoprire qualche genere a cui non avremmo mai pensato di avvicinarci. Ci sono anche un paio di punti ostici segnalati proprio dal sito, che comunque adesso andremo a svelare mano a mano che vi dirò i punti. In sovrimpressione vi metterò il punto nell'originale inglese, perché ci sono delle piccole sfumature che magari vorrei confrontare con voi, per capire al meglio a quale libro approcciarci per soddisfare quel punto stesso. Come quest'anno, come il 2017, io ho deciso che seguirò la PopSugar Reading Challenge in maniera molto soft, per cui preferisco leggere quello che mi va, quello che già possiedo in libreria, e poi se qualche libro soddisfa un punto della Reading Challenge ben venga. Però ecco, ho deciso di affrontarla così, in maniera più morbida. Siamo pronti? 3, 2, 1, vai con la nuova Reading Challenge! Punto numero 1, un libro trasposto, adattato, in un film che hai già visto. Punto numero 2, vero crimine. Quindi immagino un crimine realmente accaduto. Comunque davvero confrontiamoci, perché qualsiasi punto non ci torni reciprocamente, basta che ci commentiamo qui sotto. Punto numero 3, il prossimo libro di una serie che hai iniziato. Punto 4, un libro che coinvolge un colpo. Io qui per colpo ho inteso rapina, però anche qui, gentilmente, confrontiamoci con un commentino qui sotto. Punto numero 5, un noir nordico, quindi ambientato nel nord Europa. Punto numero 6, un romanzo basato su una persona reale. Punto 7, un libro ambientato in un paese che ti affascina. Punto 8, un libro con un orario del giorno nel titolo. Punto 9, un libro su un cattivo o antieroe. E questo è stato uno dei punti segnalati come ostici dal sito stesso. Punto numero 10, un libro sulla morte o dolore. Quindi un libro che parli o della morte o del dolore. Punto numero 11, altro punto segnalato come difficile dal sito. Un libro con un'autrice donna che usa uno pseudonimo maschile. Non so voi, ma io ho pensato subito alla Rowling. Punto numero 12, un libro con un protagonista LGBTQ. Punto numero 13, un libro che è anche uno spettacolo teatrale o musicale. Punto numero 14, un libro di un autore di un'etnia diversa da te. E questo è lo stesso punto praticamente della challenge del 2017, punto che io ho colmato con il profeta di Gibran. Punto numero 15, un libro sul femminismo. E qui bisogna stare attenti perché ci sono dei libri pseudo-femministi in giro. Punto numero 16, un libro sulla salute mentale. Punto 17, un libro che hai preso in prestito o che ti è stato regalato. Punto numero 18, un libro di due autori, quindi scritto a quattro mani. Punto numero 19, un libro sullo sport o che coinvolge uno sport, quindi o che parli proprio dello sport o al cui interno ci sia uno sport. Punto numero 20, un libro di un autore locale. Punto 21, un libro con il tuo colore preferito nel titolo. Punto 22, un libro con una allitterazione nel titolo, trattanzi di una figura retorica. E ci sarà veramente da pensare a proposito di questo punto, perché per il momento non mi sono venuti in mente i titoli del genere. Punto 23, un libro sul viaggio nel tempo. Punto 24, un libro con un weather, un elemento del clima, quindi del meteo, nel titolo tipo l'uomo della pioggia, eccetera. Punto 25, un libro ambientato al mare. Punto 26, un libro con un animale nel titolo. Punto 27, un libro ambientato su un altro pianeta, quindi vai con la fatta scienza. Punto 28, un libro con testi di canzone nel titolo. Anche qui Song Lyrics è una sfumatura, testi di canzone. Non saprei, quindi fatemi sapere che cosa avete inteso voi per questo punto. Punto 29, un libro su o ambientato ad Halloween, quindi o che parli di Halloween o che sia ambientato durante la festività di Halloween. Punto 30, intanto le campane. Un libro con personaggi che sono gemelli. Qui ho individuato tra l'altro un thriller che si intitola proprio La gemella sbagliata, che mi incuriosisce tantissimo e nella mia wish, quindi secondo me con la scusa di questo punto. Punto 31, un libro menzionato in un altro libro. Punto 32, un libro da un club del libro delle celebrità. Anche qui non sono sicura, quindi gentilmente fatemi sapere, club del libro delle celebrità, dove posso reperirlo e che cosa si intenda. Punto 33, continuano le campane. Ma che ore sono? Ma manco fosse mezzogiorno. Un classico dell'infanzia che non hai mai letto. Punto 34, un libro che è stato pubblicato nel 2018. Punto 35, uno scorso vincitore dei Guritz Choice Awards. Punto 36, un libro ambientato nel decennio in cui sei nato. Molto carino questo punto, quindi comunque un libro ambientato negli anni per esempio 80, 90 e così via. Punto 37, un libro che intendevi leggere nel 2017 ma che poi non hai più letto. Punto 38, un libro con una copertina brutta. Molto simpatico questo punto, quindi un libro con una copertina che giudichiamo brutta. Punto 39, un libro che coinvolge una libreria o una biblioteca. Punto 40, il tuo punto preferito dalle scorse Reading Challenge di PopSugar o del 2015 o del 2016 o del 2017. Quindi dobbiamo prendere i punti colmati delle scorse Reading Challenge e scegliere il nostro punto preferito e leggerlo per colmare questo punto. Arriviamo quindi all'appendice Advanced che consta di altri 10 punti, mi sa, sì. Ricordavo che l'anno scorso ne erano 12 però adesso ne ho contati 10, quindi vediamo quali sono. 41, un best seller dell'anno in cui ti sei diplomato alle superiori. Bellissimo questo punto, avrei voluto anche usare proprio l'alternativa all'anno in cui ti sei laureato. Comunque fantastico. 42, un libro cyberpunk, quindi qui occorre vedere la definizione di cyberpunk e capire quale libro possa esservi ambientato. 43, un libro che veniva letto da uno sconosciuto in un luogo pubblico. Allora, io per questo punto ho pensato subito ad un libro che ho visto in spiaggia quest'estate, mentre una donna lo stava leggendo sull'asdraio ed era questo libro qui. Piuttosto non faccio la challenge. Punto 44, un libro legato ai tuoi antenati, quindi immagino tipo un libro che ci ricordi i nonni, che hanno letto i nonni o che avevano i nostri nonni nella libreria. Punto 45, un libro con un frutto o un vegetale nel titolo, tipo pomodori verdi fritti. Punto 46, un'allegoria. Punto 47, un libro di un autore con il tuo stesso nome o cognome. Punto 48, una microstoria, che è un sottogenere della storiografia. Punto 49, un libro su un problema che deve affrontare la società oggi. E infine, ultimo punto 50, un libro consigliato da qualcun altro interessato alla PopSugar Reading Challenge. E questi erano i 50 punti della sfida di lettura per il nuovo anno. Fatemi sapere se parteciperete, se avete già in mente qualche titolo, se affronterete in maniera più soft questa sfida di lettura, oppure se al contrario vi baserete solo su questi punti per le vostre scelte di lettura. Fatemi sapere tutto, io vi mando un bacione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella e di seguirmi anche sui social, anche per eventuali aggiornamenti sulla Reading Challenge stessa. Ancora un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!